bella a tutti ragazzi siamo in un nuovo video, un nuovo gameplay e credo che sicuramente questo gli da bene e niente, si chiama Ice ed era l'unica alternativa Slender qualche anno fa e niente, andiamo a giocarlo io praticamente l'avevo già fatto sul troppo Yippus però non potevo superare i 15 minuti quindi vaffan qua c'è tanta cosa del cazzo, non ci interessa vi metterò ovviamente il link in descrizione perchè se no, voi non lo trovate così allora come si giocavano? come tutti i giochi adesso prima caratteristica di questo gioco il mouse se non mette da sensibilità alta dal menu non giocavano per niente basta fare così, il sound l'abbiamo tolto un pochettino e dovrebbe andare un po' recentemente quindi noi dobbiamo trovare sti cosi qui dobbiamo trovarne eventi dove possiamo uscire dobbiamo stare attenti che c'è una specie di fantasma e ce li riseguo ogni tanto niente e andiamo altro difetto fisico di questo gioco è che le porte pesano frettonellate quindi se volessi passare non mi faccio passare qua passare qua passare è un peccato perchè andiamo a ispezionare oltre a questi oltre a questi bec dov'è trovare anche questi occhi che mi ricordo dove è il Q sicuro adesso un altro mettiamo dentro questa porta andiamo avanti di porta di porta di controllo che ci interessa 4 su 20 io lo fili una volta api dovrebbe sentirsi quando arriva il cristiano poi il demone varia di versione in versione non so che versione ho scaricato qui c'è un aspetto di vantasma però tipo in un altro se non è solo il tuo computer c'era un aspetto di testa volante assolutamente poi allora lui è stata nella parte inferiore quindi siamo liberi da andare in quel periodo per lì ci andiamo con l'ergenza diamo scoposo e corri 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 ok c'è una parte del questo posto siamo calmi la maggior parte quindi non è l'altra parte questo piccolo ok no problem la password della sicurezza l'abbiamo trovata che altro possiamo mettere qui di la stampante ci esce un occhio così ne abbiamo un altro abbiamo altre musica a prendere qui dentro ok vai 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 qui qui ok se il blocco rombo il muro non è come run 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 dove randiamo? cosa si fanno? dove andiamo? oh ma andiamo! guarda quanto è che hai passato da due porte? Vabbè dai, proviamoci un'altra volta, magari andiamo giù, andiamo di nuovo qui, la sensibilità Ok, c'è un cazzo, no c'è pure una mappa, wow, molto dettagliata, sembra un pain Ok, ok no problem, ci buttiamo subito giù, questa roba qui, quindi non la prendiamo, abbiamo un po' in blocchi, poi abbiamo già trovato il suo cubo, eh, se vengi forte, arriva anche la chiave non è vista, qui avanti, questa è forte, guarda, qui dove c'è? Abbiamo una, scusa, dentro qui, ho la Nutella, proprio giù, è sempre uguale a noi, non direi più, questo qua lo ritrovo, ci vuole che non mi fa, 300, quanto c'è la 230, ok, la chiave l'abbiamo trovata, ancora bisogno di nuovo questo sacchetto, in tetta, vediamo l'altro, 4-2-ben, sono al primo piano, ci manca la porta centrale, tutto sembra essere pronto, la prova positivo, devo dire che sembra uno stancarsi, poter prendere, quindi offa, tasca, se vuoi, sto arrivando proprio da questa parte, nooo, stavolta non è entrato, stavolta siamo Ottimo, muoviamoci e usciamo, il punto adesso è il dove? E' buttato giù, quindi non andiamo qui, su, 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 corri, 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 ok chiamiamo un altro occhio, che ma è il senso come chi sono gli occhi, cazzo da via niente, qui, abbiamo un altro bellissimo occhio rarararara, cazzo da manifesto giù da qua, no non ho chiudora porta, no, mi cazzo come ha bei no no si può proprio uno stronzo PAP PAM Uff PAP Sì Sì Siamo fin l'ultima volta Questa volta il mio obiettivo è andare giù Penso che sto già altre volte Vaffanagno Un po' a rugirsi Sì Gretta Gretta Sì Sì Vediamo questo Google Vediamo anche questo Google Vediamo anche questo Google Ok Ok Quattro Quattro Cinque Vedete Già bene le porte Cazzo Già in vero in case Dov'è chiuso Tardaranguizzi La chiave Eh Vividere Dove 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 sta Eh Abbiamo ad R Cazzo A meno 12 adesso C'è anche la porta centrale Non si aprono Ne abbatte queste porte Allora qui non c'è niente Vado 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 Ok Dov'è? Sta a salire Dove? No, sta a scendere Ok, siamo a cavallo Per chi dovevo andare Cambia di piani Vado su Vado su però con le porti lunghe che andiamo a vedere Il duco Ah, allora si stanza Ha detto bastardune Proviamoci un po' Tornando rapidino Ok Sisto Ura, pa, pa, dove ranno? Uh, strada Aspetta, va, va, va Va, va, va Va, va, va Eh, metti dentro, porca di quello Ma rancusa che stava giù Ah, qui abbiamo una candaia Siamo a 12 su 20 Questa è la parte superiore Dobbiamo andare lì C'era un'altra porta Sì, sicuramente Grazie Passa ci E c'è Un'altra giocciola Certo, va bellissima Cioè, è bellissima Questa, grazie Un'altra giocciola Un'altra giura Un'altra giocciola Vediamo subito via da qui Aerica � bla exclusive E hi eh, che cazzo Parco Bene, gli ottenete non bastare così, questo è Iris, credo sia venuto bene, sono riuscito un po' a settare il debatt, iscrivetevi, 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 iscrivetevi e ti vi piace, commento per favore, non mi taglia nessuno, ho fatto anche il chat rurret, primo pure lo metterò qua, devo sbagliare un paio di cose, andate a vedere il mio video sull'Hobbit e come si blocca tutto qua, quit, buona?